Allora, bentornati ai tre minuti del nonno. Il nonno vi saluta, vi vuole sempre bene. Questi tre minuti sono dedicati a molti finti interisti che stanno su YouTube, ce ne sono tantissimi. Finti interisti che stanno su Twitter, che ce ne sono tantissimi. Finti interisti che stanno su Facebook, che ce ne sono tantissimi. Allora, la realtà è che per un clickbait si fa qualsiasi cosa ormai. E soprattutto si infanga la mia squadra, cioè l'Inter. Allora, ieri ho sentito di tutto parlare sull'Inter. Per riprendere un po' di ascolto, molti YouTuber hanno incominciato a dire salvo solo il risultato. Che cazzo salvi il risultato? L'Inter ha vinto meditatamente ieri, meritava di vincere 3-0 perché un gol era stato fatto e secondo me il discorso di Lautaro che fa quella spinta è puramente in 90 casi su 91 non danno il torto all'attaccante. C'era una deviazione di mano con braccia aperte sul tiro di Mkhitaryan che anche quello non è stato assolutamente neanche andato a vedere, l'arbitro neanche andato a vederlo ed ha dato il passare avanti su quell'azione. Quindi l'Inter meritava di vincere 3-0, ha vinto sulla 0 e oltretutto il Verona non ha quasi mai tirato in porta. L'Inter non ha mai sofferto per la maggior parte della partita, ma niente, bisogna sempre andare addosso all'Inter. Sembra, io ho sentito uno youtuber che stimo, che ha detto che l'Inter sia 50 punti dalla Champions League. L'Inter sta a un punto dalla squadra che tutti quanti osannano, cioè quelle pippe del Milan e sta a pari punti dalla Juventus che oltretutto ha vinto lo scontro di letto. Quindi, immeritatamente secondo me. Quindi, di cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando con l'Inter che c'ha tanti infortunati? Che non ha Lukaku, non ha Brozovic, praticamente da inizio stagione. Che comunque sta dando anche buoni risultati con le proprie riserve. Perché Mkhitaryan, che è una riserva, sta facendo un ottimo campionato. Aslany, che è una riserva, sta facendo un ottimo campionato. Darmian, che è una riserva, sta facendo un ottimo campionato. E via dicendo. Bella Nova, sta crescendo. Perché dovete sempre rompere il cazzo per un clickbait? Perché per guadagnare un euro all'anno dovete cagare il cazzo? Questa cosa veramente io non la capisco. Per quale motivo noi, interisti, dobbiamo andare sempre addosso alla nostra società? Per quale motivo? Un abbraccio dal nonno.